Face2Face è un'attività che è stata già pianificata nella prima edizione di Face2News e aveva questo tipo di finalità, permettere ad ogni partecipante del tuo portfolio di mostrare la propria opera con una esposizione estemporanea e incontrare il pubblico. Questo è il concetto, no? Mi da, mi si trasforma in tutto in un'emozione, certamente un'emozione, che è un po' un patire, una dicenda che però non ne so lineamente. E' proprio? Qua è la scritta Ho imparato a volare che però non bisognerebbe leggere, se no faccio la figa. In sé è il loro segno della mano, col numero, e ovviamente l'ombra, che è qui sempre quello schermo, no? indietro che raccoglie il vissuto. Anche qua diventa... c'è il senso del tentativo, il senso della sfida, il senso dell'ansia e del crescere, ma è molto legato alla Francia. Prima. 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 non è previsto un inserimento questa immagine un'immagine che in pratica ovviamente parla di una ferrovia che poi termina nel suo percorso in questa figura femminile che è un ostacolo nel percorso